Ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Sondrio. Vediamo insieme i nostri titoli di oggi. Nel giorno in cui il questore re annuncia di lasciare Sondrio è stato siglato con ASST il protocollo Zeus che dà vita a un servizio di recupero di chi ha compiuto violenza per prevenire nuovi episodi. Chiavenna investe un milione di euro per la sistemazione degli edifici che costituiscono le pertinenze di Palazzo Vertemate. Tra gli interventi in progetto anche una struttura coperta per ospitare eventi. CGL, CISL e UIL sono al lavoro per il rinnovo del contratto dell'industria alimentare che coinvolge 2300 persone in tutta la provincia di Sondrio. A maggio si terranno le assemblee nelle aziende. Allora, vediamo i servizi. Ho trovato una città sicura, una provincia sicura. Penso di lasciare una città altrettanto sicura. Gli indici di criminalità sono calati tutti quanti. E questo è merito degli uomini e delle donne della questura di Sondrio che lascio e comunque continueranno la loro attività. Con queste parole il questore Angelo Giuseppe Rea ha annunciato il termine del suo incarico a Sondrio che coincide con il pensionamento. Un'occasione per tracciare un bilancio di questo periodo in valle. Sono arrivato quattro anni fa e abbiamo avuto una serie di episodi che hanno allarmato particolarmente la città e la provincia di Sondrio. Devo dire che fortunatamente e anche per la bravura dei poliziotti, dei funzionari, dei poliziotti che lavorano in questa questura, abbiamo risolto tutti i casi più gravi di cui ha avuto questa provincia. Mi riferisco, così vado a memoria, l'episodio del danneggiamento all'interno della collegiata per esempio che tanto allarme ha destato e che se non l'avessimo scoperto ci lasciava il dubbio che potesse essere un attacco di un terrorista qualcosa di più grave. L'abbiamo risolto in meno di 24 ore. I danneggiamenti all'autovettura, un episodio più recente, 18 danneggiamenti tutti in una sera, anche quello l'abbiamo risolto in tempi brevissimi. La rapina al supermercato, cioè tutta una serie di attività che sono state fatte in tempi brevissimi. In tempi brevissimi, ripeto, grazie alla professionalità che comunque lascio al mio successore, non ho inventato nulla io di nuovo, sicuramente è una professionalità che la Polizia di Stato ha in tutti i suoi uffici dislocati sul territorio. C'è tutta un'attività fatta dalle poliziotte, dai poliziotti e dagli impiegati civili del Ministero dell'Interno che è un po' meno visibile. Mi riferisco a tutta l'attività amministrativa, a tutta l'attività dell'immigrazione, a tutta l'attività della Digos, a tutta l'attività della logistica, che è un'attività complessissima. Io scherzando, dicono, è la cosa più facile arrestare gli spacciatori. Ci sono delle cose molto più complicate che noi facciamo, che non hanno questa risonanza. Mi sembra giusto e doveroso citare il Presidente della Repubblica, che tra l'altro ho l'onore che è anche stato mio docente universitario. E mettersi alla stanga significa mettersi a lavorare, significa prendere l'aratro e arare, cioè i lavori più umili, i lavori da cui bisogna partire per creare qualcosa. Ripeto, la nostra attività è spesso un'attività fatta per strada, fatta in modo non visibile, proprio per questo motivo è più efficace di tante altre teorie. Siglato dal questore e dal direttore generale di ASST, il protocollo Zeus che dà vita ad un accordo per il recupero delle persone violente a tutela delle vittime di maltrattamenti e allo scopo di prevenire questi episodi. È una firma importantissima, perché finalmente si sposta l'attenzione dalle vittime all'autore dei maltrattamenti, ma è sempre in funzione della tutela delle vittime. È un protocollo che è già stato sperimentato in alcune città italiane e dove è stato sperimentato si sono avuti degli ottimi risultati, nel senso che la recidiva dei maltrattanti è diminuita di più del 50%. Cioè il soggetto che viene ammonito dal questore per comportamenti violenti nei confronti familiari o nei confronti di conviventi, viene informato dal questore che ci sono delle strutture all'interno del nostro territorio che possono accogliere il maltrattante per potersi curare. Già l'ammonimento comunque ha dato degli ottimi risultati, perché moltissimi soggetti dopo l'ammonimento del questore evitano di ripetere gli atti che hanno già fatto. E questo è un ulteriore strumento che noi diamo ai soggetti che sono autori di questi fatti. Nell'ambito della rete contro la violenza di genere, ASST offre una serie di servizi, sicuramente la presa in carico della donna maltrattata e da anni i consultori sono in campo su questo tema. Oggi apriamo un nuovo servizio, il Centro per il Trattamento delle Condotte Lesive Violente, che consentirà anche al maltrattante, quindi a colui che mette in atto dei comportamenti violenti, di poter farsi seguire per le azioni che compie, spesso senza rendersi conto della gravità di ciò che mette in atto. Rispondere a due domande. Uno, il perché dell'azione violenta. Due, è se l'autore della violenza debba essere per forza sempre sbrigativamente punito oppure possa e debba essere curato. Questo è il punto ed è molto importante che anche le vittime sappiano della possibilità che l'autore venga curato. Io vedo tutte le mattine le notizie di reato, le leggo, quindi le qualifico. Devo dire la verità che la quantità è molto elevata ed è spesso frutto di un abuso di alcol, non solo di superfacenti, ma di alcol. Non è preoccupante, però nella comparazione dei pesi e della domanda di giustizia ha un ruolo importante, è significativo ed è preoccupante e mi dispiace. Quindi questa risposta è molto significativa per me, il protocollo di oggi. Lavori in corso a Palazzo Vertemata è dove il Comune di Chiavenna sta realizzando gli interventi del secondo lotto di riqualificazione delle pertinenze dell'antica dimora storica. È per il Comune di Chiavenna un progetto importante legato al grosso progetto delle aree interne. stiamo parlando della sistemazione dei rustici attorno al palazzo che verranno adibiti a spazi, a servizi per tutta una serie di attività collaterali alla semplice museo classico di Palazzo Vertemate. L'idea dell'amministrazione è quella di riuscire in qualche modo a far vivere e a far camminare Palazzo Vertemate sulle proprie gambe grazie anche a un'idea di andare a costituire un soggetto nuovo che gestisca tutta questa grossissima ricchezza che il Comune di Chiavenna ha. Questo soggetto dovrebbe essere individuato come nuova fondazione che possa in qualche modo avere una maggiore autonomia anche gestionale della struttura di Palazzo mettendo in rete anche tutti questi nuovi servizi che stiamo ristrutturando in questo momento tra cui uno spazio dedicato anche alla possibilità di ospitare eventi anche in caso di brutto tempo. Quindi andremo a realizzare una nuova copertura. Stiamo parlando di interventi chiaramente di natura molto delicata in quanto siamo in un ambito assolutamente tutelato quindi di opere di restauro conservativo che sfiorano circa il milione di euro di interventi quindi sicuramente un intervento importante che ci vedrà impegnati ancora per i prossimi mesi contiamo di concludere tutta l'operazione per il prossimo autunno. Si va verso il rinnovo del contratto industria alimentare CGL e Cisle Will hanno redatto l'ipotesi di piattaforma e a maggio si terranno le assemblee nelle aziende in provincia di Sondrio sono 2300 i lavoratori toccati da questo contratto nel documento sono inserite delle migliorie Innanzitutto un aumento contrattuale per i lavoratori dovuto anche alla forte crescita del settore agroalimentare in Italia soprattutto per quanto riguarda le export e anche le vendite interne C'è una richiesta di adeguare il salario all'inflazione che continua ad aumentare che sarà circa di 300 euro nel quadriennio ma soprattutto di aumentare le relazioni industriali di focalizzarsi sul mercato del lavoro sull'orario di lavoro che la nostra richiesta forte è quella di ridurlo a 36 ore a parità di contratto e soprattutto per quanto riguarda i contratti a termine i contratti di somministrazione e gli staff leasing Il lavoro rappresenta sicuramente oggi per l'industria alimentare una materia prima che è stata negli anni gestita sempre come in promozione come fosse in offerta speciale Questo lo dimostra anche il numero di appalti significativo all'interno dell'industria alimentare che nella piattaforma si chiede in maniera molto netta di andare a rivedere Di fatto cosa si chiede? Si chiede di andare a ridimensionare l'utilizzo nell'appalto eliminando di fatto l'appalto dall'approvvigionamento e dal confezionamento all'interno delle industrie Un punto fondamentale all'interno della piattaforma è sicuramente quello che riguarda il mercato del lavoro e l'occupazione per cui un tema che è molto sentito l'organizzazione dei sindacali e anche dei lavoratori è quello di garantire stabilità, dignità al lavoro e fare in modo che all'interno delle fabbriche venga utilizzata sempre di meno la somministrazione e venga invece incentivato il lavoro a tempo indeterminato per cui la piattaforma propone dei limiti importanti sia sull'utilizzo del tempo determinato della somministrazione a tempo determinato e indeterminato proprio per cercare di stabilizzare i lavoratori e dargli maggior stabilità Tre giorni di lavori nei pressi della stazione di Monza sono destinati a sconvolgere i piani di quanti durante il ponte del primo maggio volevano spostarsi in treno a partire dal 29 aprile RFI, società che gestisce in Lombardia l'infrastruttura ferroviaria ha in programma un cantiere nei pressi della stagione del capoluogo Brianzolo per tre giorni e tre notti dunque sono previste modifiche per tutti i treni delle tratte che passano attraverso Monza Trenord ha disposto una serie di bus sostitutivi che partendo da Seregno, Carnata e Villa Santa porteranno i passeggeri a Sesto San Giovanni saltando dunque la stazione chiusa e consentendo ai viaggiatori di proseguire e giungere a destinazione pur con un inevitabile aumento dei tempi di percorrenza e qualche imprevisto per il traffico nei pressi delle stazioni il personale di Trenord aiuterà i viaggiatori a usufruire del servizio ora le modifiche più importanti previste fra le tratte interessate ci sono anche la Tirano-Lecco-Milano e le linee S7-Lecco-Molteno-Monza e S8-Lecco-Milano per quanto riguarda i treni diretti della Valtellina questi viaggeranno regolarmente fra Tirano-Sondrio-Lecco qui la linea devierà il percorso e arriverà a Bergamo dove i passeggeri potranno raggiungere Milano con la tratta via Prioltello discorso diverso per le due linee lecchesi locali i bus sostitutivi porteranno i passeggeri da Sesto a Carnate o Villa Santa sempre a Carnate potranno prendere il bus sostitutivo i passeggeri in arrivo da Bergamo i treni in arrivo da Como invece fermeranno a Seregno con Pullman che diretti a Sesto San Giovanni saranno utilizzati anche dai passeggeri della linea S9 Sarono-Albairate i treni provenienti dalla Svizzera infine fermeranno solo a Mendrisio per poi arrivare in Porta Garibaldi a Milano senza soste intermedie per ulteriori informazioni e variazioni dagli orari è possibile consultare sempre il sito di Trenord è tempo di iscrizioni per la K2 Valtellina Extreme Vertical Race domenica si apre il termine per partecipare alla quinta edizione della gara che quest'anno assegnerà i titoli assoluti fiscai sul doppio chilometro verticale la competizione valtellinese sarà anche la terza tappa del Crazy Vertical Italy Cup e seconda prova del neonato VAM Vertical Challenge dopo il successo delle scorse edizioni riconfermati format e percorso con partenza dalla chiesa parrocchiale nel cuore di Talamona a 272 metri sul livello del mare e arrivo alla Cima Pisello 2272 metri vincitore 2022 è stato il campione mondiale di Skyrunning Roberto De Lorenzi ma il miglior tempo rimane quello di Michele Boscacci nella gara in rosa il best time appartiene invece alla piemontese Camilla Magliano le iscrizioni apriranno domenica sul sito endo.net o seguendo il link che trovate sul sito www.k2valtellina.it e chiuderanno domenica 18 giugno o al raggiungimento di 250 iscritti Il passo dello Spluga riapre dopo la chiusura invernale grazie all'accordo tra ANAS e autorità elvetica dalla mattinata di mercoledì 26 aprile è possibile percorrere il tratto della statale 36 che congiunge la Valchiavenna alla Svizzera a causa delle ultime nevicate era slittata di qualche giorno la consueta riapertura prevista in primavera Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi